Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Sparo Aerostale Allora qui da Hunter non abbiamo nulla da fare a quanto pare Però là sopra c'è un bersaglio Vabbè forse si farà dopo qualcosa Non lo so perché nella guida non ha fatto questa parte Poi non lo so E allora quindi noi dobbiamo tornare adesso indietro Riutilizzare il teletrasporto Dobbiamo curarci ancora però Dobbiamo tornare nella parte principale perché abbiamo il boss oggi Dobbiamo sfidare il boss E a quanto ho capito c'è un'altra zona ancora Quindi il gioco non è ancora finito È davvero parecchio lungo questo Come gioco E allora Prima di andarci a fare il boss Curiamoci per bene Allora qua c'è la zona Vi dico solo che sfidiamo lui Il drago E non è facile come sfida Quindi non posso immaginare Nell'ultima zona La sfida finale sarà anche peggio I bug non mancano mai Non ci voglio credere Come sei arrivato Non importa Adesso ti sistemo io Speravo di non dover arrivare a questo Dovrei avere paura di te Ho parlato con gli anziani E a quanto ho capito Sei solo un vigliacco traditore Beh Giovane drago Preparati a una bella lezione Ok benzo che già mi colpiva cavolo Allora iniziamo con i primi salvataggi Vediamo come attacca Eh broco Ma mi ha colpito Non mi ha ferito però Ma che cazzo Ma io come faccio ad evitare questi di ghiaccio però La vedo difficile stavolta Ma raga è impossibile Come cazzo faccio Allora se sbatto negli angoli E porca buttana però Cioè sbatto negli angoli Mi ferisce però Sì ma è impossibile Ma che cazzo Come cazzo lo evito Io non ho capito Un cazzo Come buttare la mia serie Devo colpirlo cazzo Cioè mi ferisce sempre No è impossibile Non ce la farò mai Allora io fino a qui riesco ad evitarli Il problema è che io non so cosa devo fare No così non lo colpisco Vediamo forse Io non capisco se lo ferisco in quel modo Non ho capito un cazzo Non lo ferisco Non lo ferisco Ora ho capito Finalmente Finalmente l'ho capito Allora Eh ma che cazzo Però subito Ok 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 Adesso fino a qui ci siamo Mi sa che era Ora ha sparato Ha sparato i nemici Addrittura No ma raga È inevitabile È inevitabile Porca buttana È troppo forte Ma che cazzo Cioè io mi cambio l'arma La cosa E mi mettono la stessa cosa No cazzo Ma poi solo il ghiaccio Mi ferisce Porca buttana Ma vaffanculo Non lo so Non lo so se ce la faccio Sì ma che cazzo però Non ho manco il tempo Ok Ok io salvo qua Cioè perché veramente Non ce la faccio Io dovrei riuscire a evitare Quel ghiaccio Vero? Ok Bastardo È un bastardo Porca buttana Non ha una tecnica Non ha una tecnica Non riesco a capire Come cazzo Deve evitarlo Eh ti pareva No è impossibile È impossibile Vaffanculo Vaffanculo Allora Ok io fino a qui L'ho evitato Io salvo di nuovo Perché Ecco ti pareva Mi attacca ancora In quel modo Quanti cazzo Di attacchi Mi fa Ok Fino a qui Ci siamo arrivato Finalmente Sono riuscito a fare Solo un attacco Cazzo No io qua Non ce la faccio Dei vitali Porca puttana Ma che cazzo Però Non so se ce la faccio Non ce la so Ce la faccio Ma che cazzo Cioè non mi dai Il tempo Non mi dai Il tempo Porca puttana E ti pareva Non ce la farò mai Non ce la farò mai E niente E niente Allora Siamo arrivati Di nuovo qua Il problema È che Non ho Tanto tempo Per colpirlo L'ho colpito Due volte È troppo rapido È troppo rapido Non Non ho il tempo Di evitarlo Aspetta Ok perché Se no Non lo evitavo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ok fino a qui ci sono Ok Due colpi di nuoio Ho dato Abbiamo sbagliato Ho sbagliato pure a salvare Ma che cazzo Ok Non credere di avere chance Contro la mia potenza infinita Ok Io salvo di nuovo In teoria ci ha colpiti Solo una volta Finora Cosa fa adesso Devo continuare a correre O sbaglio Ma Sì Vabbè Ciao Come cazzo faccio Qua Ah ecco come mi colpiva Cioè siccome io mi muovevo Non mi colpiva per questo No perché quella cosa Non mi aveva fatto nulla Allora questa cosa di fuoco Restringe la struttura Prima di tutto Un po' con quello Cosa fa il ghiaccio No ma come cazzo lo evito Cioè impossibile Cioè prima lo evitato Ora no Ma siamo seri Ma siamo seri Ma siamo seri Ci è caduto Non ci credo Come cazzo faccio Cioè prima La evito Ora non la evito più Ma che cazzo Ok Ok fino a qui Io ci sono arrivato Il problema è che la prossima tecnica È impossibile da evitare Come cazzo faccio È impossibile No vabbè Ok Non chiedetemi come ho fatto L'ho evitata L'ho evitata No vabbè ma Siamo seri Non si muove Non si muove Porca buttana Perché cazzo Non ti muovi Non lo so come devo fare Veramente Cioè guarda Non si muove Non si muove È assurda sta cosa Raga Non ce la faccio Non si muove Che porca butta Non si muove Il personaggio Aspetta Forse saltando Si evita Poco fa L'ho evitata Sì vediamo Sì vabbè Ma se non ho il tempo Di saltare E non salta Vabbè Ma vaffanculo No non ce la faccio Raga Non ce la faccio Non lo evita Non lo evita Non lo evita Cioè non Non corre Non lo evita Non posso fare un cazzo Ecco Ti pareva Non lo evita Non ce la faccio Raga Non ce la faccio Cioè veramente Stasera Mi sa che finisce qua Stasera Mi sa che finisce qua Perché non Non ci riesco Non ci riesco A passare Quel cazzo di punto Io qua Il problema Che ora salva Mi colpisce Salva e mi colpisce Eh Ti pareva Cioè è impossibile Evitarlo È impossibile Ok Ho evitato un altro Ho evitato un altro No io Ogni salto Devo salvare Perché se no Non ce la faccio Io ce l'ho fatta di nuovo Di nuovo Devo salvare 800 voti Per passare Sto pezzo Ok No Non Ancora Ma quanti cazzo Di attacchi mi fa Porca puttana No È impossibile Ucciderlo Questo Ci mi fa 800.000 attacchi Salva E ti pare Avevo sbagliato Di nuovo Fino a qua Ci siamo Pezzo di merda È un pezzo di merda Me ne ha fatti due uguali Tre uguali No due No ma è imbattibile Questo è imbattibile Ok Finalmente Ma vaffanculo No no Io non l'accetto Non l'accetto Che non muore Vaffanculo Ho sbagliato Prendi questo Pezzo di merda Perché assolutamente Al secondo giro Deve morire Che adesso Qua si dovrebbe Accorciare Come prima Ok Fino a qui ci siamo Ho evitato Due attacchi E ora qua Abbiamo l'attacco Quello Diciamo Che questo È l'attacco Peggiore Cazzo E che cazzo Ok Già l'ha fatto Il primo Adesso manca L'ultimo Quello che è Più complicato Quello che è Inevitabile C'è veramente Cioè io Prima l'ho evitato Per miracolo Cioè io dico Come cazzo hanno fatto Le persone A passare a sta parte Io vorrei capire Come cazzo hanno fatto Ma poi I sviluppatori Con quale cazzo Di logica Hanno calcolato Che questa parte Fosse Plausibile A momenti Ma l'hanno salvato Boh Veramente Io da ogni salto Devo salvare E ti pare Viene a colpire Ok Ce l'ho fatta Di nuovo Ce l'ho fatta Di nuovo Ce l'ho fatta Di nuovo E mi ha colpito Cazzo Era l'ultimo colpo Porca buttana Ok Fino a qui ci siamo Adesso Ci dovrebbe essere Qualc'azzo di attacco Quello con Il ghiaccio Ok Ok Io qui salvo Perché già abbiamo Passato una buona parte Questa parte Ok Forse abbiamo Passato tutta la parte Oh Finalmente Più forte del previsto Come ho potuto Sottovalutarti Quanto pare La tua potenza Non era poi così Infinita Spiro Grazie per avermi liberato Ti stupiamo ora Con il potere Del soffio Di ghiaccio Usa il soffio Di ghiaccio Per congelare I luci E bloccarli Dove sono E' utile Anche per Sollidificare Piccoli Genti D'acqua E per Raffreddare Il geyser E incandesce Ok E finalmente Lo abbiamo Sconfitto Una buona volta Ma io qui salvo Allora E ti pareva Ma mai che ho salvato Ma che cazzo fa Vabbè Vabbè C'è veramente Ok Io qua salvo di nuovo Perché Sto pezzo Non è che tanto facile Ma io dico Ma che cazzo Perché cazzo Non si aggrappa E non si aggrappa Ma porca buttana Però Ce lo fa apposta No C'è Sta cosa non guarda Perché cazzo Non lo prende Perché cazzo Non lo prende No 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 Sto gioco Veramente Fa solamente Schifo Porca buttana E non si aggrappa Ah Io non sto sbagliando nulla Qua è tutto giusto E non si aggrappa No raga Io non ce la faccio più Veramente Non è possibile Non è possibile Non è possibile Che non si aggrappa E ti pareva Si ha rotto il ghiaccio Aspetta un attimo Oh Finalmente Qua vabbè Torniamo indietro Dove eravamo praticamente Nella sfida Quindi non c'è niente Allora adesso qui Dobbiamo prendere Il teletrasporto E andare In un'altra zona L'abbiamo piegato Un'eternità Però Isola del vulcano Cioè io non so Immaginare Quanto sarà Difficile Per qua Lui Di nuovo Se l'aria Complicata Spiro Penso di sapere Dove potrebbe essere Red Credo che abbia Un cuovo soterraneo Secreto Da qualche parte In questo regno Ci faccio un salto Con il mio nuovo Con il genio Ehi Essendo Una talpa Scaverò Fino Al covo Di Red Intanto Cerca Di entrare Nel vulcano Perfetto E siamo Nella nuova zona Allora Noi dobbiamo andare Di qua Vabbè che adesso Concludiamo Però Ok Vediamo se riusciamo A salire Qua sopra Ma mi pare Che qua sopra Se ci va Vero A sto Menudo Ci va Oppure No Si Perfetto E allungiamo Di qua E concludiamo Ok Si rompeva Ok Non lo sapevo Si rompeva Comunque Per oggi Ci fermiamo Qua Ovviamente Se il video Vi è piaciuto Come se Mi vi lasciava Un bel mi piace Per questo video È tutto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao E noi ci vediamo